one podcast tinder lancia la verifica del proprio profilo con un video selfie buongiorno e bentornati al caffettino podcast sono mario moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale commentiamo insieme la notizia che non ti puoi perdere del mondo dell'innovazione oggi visto che è venerdì e scoppiata la primavera c'è un sole pazzesco almeno qui da dove vi parlo parlerei di tinder e parlerei di dating ma di una nuova possibilità che ha a che fa anche col mondo del business e dei social media in generale uno dei problemi delle piattaforme social è il fatto che non si riesce mai a verificare se una persona è reale oppure è un bot oppure è un malintenzionato e cosa vuol dire vuol dire che chiaramente le piattaforme si mettono a cercare soluzioni c'è chi va verso una direzione a pagamento come lo stesso twitter e probabilmente anche meta con meta verified ovvero paghi inserisci la tua carta di identità oltre che a quella di credito e ti verifichiamo ti diamo la spunta blu in una piattaforma come tinder di dating è molto importante sapere se c'è un fake oppure no dall'altra parte perché si tratta di incontrare persone e fare il cosiddetto matching dal punto di vista reale e poi fisico sempre dal punto di vista di tinder ci dicono che le persone tra i 18 e i 25 anni che hanno un profilo verificato hanno il 10% in più di possibilità di fare match che è un po' l'obiettivo di tinder e quindi arriva direttamente da loro arriva dal punto di vista utilitaristico arriva anche dal punto di vista della sicurezza bene ora con l'intelligenza artificiale a tutto spiano che ci permette di creare qualsiasi cosa soprattutto immagini con mi journey era diventato complicato anche per la stessa tinder con la loro intelligenza artificiale scoprire se un utente era reale oppure no e quindi chiedono chiederanno stanno chiedendo agli utenti di caricare una video selfie di presentazione che sia coerente chiaramente con le informazioni che abbiamo inserito permettendo così di avere un profilo ufficialmente verificato perché è interessante questa notizia al di là se abbiamo un account su tinder è interessante sapere che c'è questa novità ma anche per noi professionisti imprenditori e perché no studenti perché la prima volta in cui un social utilizza un'intelligenza artificiale per combattere un'intelligenza artificiale e inserisce un sistema di verifica molto facile da fare da utilizzare per l'utente finale ovvero prendere in mano il cellulare e fare un video selfie mi sembra complicanza esagerata anzi io se questo sistema vedremo nel funzionamento porterà dei risultati lo utilizzerei su t social direi mark zakenberg forza ilon musk forza copiate tinder inseritelo nelle vostre piattaforme perché il grosso problema oggi di queste piattaforme sono i profili fake sono i profili creati per rubarci le identità rubarci le immagini sniffarci informazioni ovvero recuperarle e vendere al migliore offerente ecco mi sembra una soluzione interessante sempre che chiaramente funzioni ricordiamoci è un'eterna lotta tra guardie ladri tra chi scappa e tra chi rincorre perché abbiamo due intelligenze artificiali al confronto perché tra poco sicuramente neanche questo basterà più e ci sarà un'intelligenza artificiale che farà un video selfie naturale come se insomma come se lo facesse una persona insomma è un'eterna lotta però il fatto di proporre soluzioni diverse da l'invio di password e l'invio autenticazione doppia o sms mi sembra una cosa intelligente anche perché questo allontana in qualche maniera il pagamento mensile come accade o accadrà su meta verified e come accade oggi su twitter ovvero l'ultima stregua dei social media l'ultima possibilità di mantenere in vita questo paziente morente dei social media insomma staremo a vedere quello che succede e quasi 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 mi crea un account sui tinder e dico alle persone sto testando sto provando no no sto provando e basta sto provando sto provando puntata numero 1344 io sono mario moroni questo è il caffettino podcast come ogni giorno 365 puntate l'anno mi trovate qui davanti al microfono se non ti vuoi perdere nessuna puntata vieni su telegram mario moroni canale è il canale da seguire per non perdere nessuna puntata con nessuna notifica e se ti va vieni a trovare sul mio sito mario moroni punto it ci sentiamo domani buona giornata